eeeh branca eeeh la squadra d'attacco deve trovare e disinnescare le bombe le bombe ma tu non ci può che... legger bomba individuata dalla squadra d'attacco la proposta del mondo non è vero le mani non può fare domani ma l'africa ha bisogno di te 10 secondi poi via l'incursione e secondi via l'incursione 5 secondi 5 secondi l'obiettivo della squadra d'attacco ancora 5 milioni ancora 10 piatine sto ricaricando prego non uccidere c ma io posso ma io posso sparare in questa modalità con il piano sparare non lo so si può fare ma che caso te lo metti sempre la mappa di merda va attivo il mio replicatore oh no tutte e fresche ma ti tengono un filo cambio caricatore mi avvicino un po' mi tengono qua vi ho lanciato oh non posso sparare sono in ciro sono in ciro sono in ciro sono in ciro a far la fissa e lo so che sa la cacca e lo so ci sono passate non luminare ci sono passate non ci sono passate quindi mettere spettacare wow Tu mi manda? Tu mi manda? Tu mi manda? Tu mi manda?